Cominciamo! Doppio e palleggio, 0-1, palla! Regalo, carica per la rincorsa! 1-2, palla! Non c'è nessuna domanda! Certo! Grazie per la domanda inutile! 2-3! Prendere il polso, Angelini, manca quello! 3-4! 3-5! E certo vi dà anche pugni, a che punto siamo arrivati? Io non so, non entra neanche in campo ormai! 3-6! 4-6! 4-7! Grande! 4-8! 5-8! 4-8-5-9! 5-10! Cambio coppia! 6-8! 5-8! 2-7! Palo, palo! Non hai capito l'esercizio? Sta zitto! Ma Palo! Sì, Palo, lui è l'esercizio della scorsa settimana! Certo, lui non è fisso! non ha ossigeno sta anche parlando lui è il classico quello che vuota il PID non c'è il gesto d'attacco amico mio neanche maestro dobbiamo caricare questa rincorsa 2 su 3 2 su 4 2 su 5 3 su 6 muro a scorrimento muro a scorrere la rete muro a scorrere la rete 4 su 10 cambio coppia rimangono primi Angelini e il padre di Maestro scorrere tutta la porta poi sbagliamo ma noi il sostituto di Lazzari che abbiamo fatto da battere 5 su 10 0-1 1-2 1-2 bravissimo maestro maledetto che ci fosse la rincorsa 1-3 1-3 2-4 3-4 3-4 2-4 3-4 2-4 3-4 2-4 3-4 4-5 3-5 3-5 che merda questa è una merda enorme 3-6 faremo sostretto 4-7 attenzione 5-8 per passare il vantaggio 5-9 ancora e 5-10 devi fare rincorso e attaccare tutto il resto è una presa in giro